Raffica di telefonate e numerose mail ieri sera in diretta su ETV, segno che i comaschi e più in generale i lombardi brancolano ancora nel buio in materia di Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, molto spesso confusa con la Tari, la tassa sui rifiuti. Il commercialista lariano Giampaolo Corti e Mauro Pellicciari del CAF Cisla di Como, ospiti di ETG più speciale Tasi, trasmissione condotta dal giornalista Giorgio Civati, hanno risposto a tanti contribuenti alle prese con il pagamento delle due imposte. L'attenzione ruota intorno alla scadenza del 16 ottobre, data entro la quale bisogna versare l'acconto della Tasi, tra i principali quesiti rivolti agli esperti, le modalità di calcolo, le aliquote e le detrazioni stabilite dai diversi comuni. Se la situazione infatti può variare da un'amministrazione all'altra, c'è però un sentimento che unisce tutti i cittadini, ovvero la rabbia, perché, dicono, invece di semplificare, hanno complicato le cose, senza contare che per qualcuno l'importo è superiore rispetto alla vecchia IMU. Altro aspetto da non sottovalutare è legato alla somiglianza dei due nomi Tasi e Tari, facilmente confondibili, ma se per la Tari la tassa sui rifiuti il conteggio è stato effettuato dai singoli comuni e poi inviato ai cittadini, per la Tasi la tassa sui servizi indivisibili, come detto, i calcoli devono essere fatti direttamente dai contribuenti. Per quanto riguarda poi le scadenze, se per la Tari possono essere diverse da comune a comune, per la Tasi sono le stesse in tutta Italia. Con tante possibilità, dunque, il caos è servito. In difficoltà principalmente agli anziani, ma pure chi era abituato a gestire questi pagamenti in autonomia, questa volta ha preferito rivolgersi agli esperti, anche in diretta sui tv. Dalle 20.30 alle 22.30 ieri sera balanga di telefonate per cercare di sciogliere i dubbi, del resto che i problemi da risolvere siano ancora molti, lo hanno dimostrato chiaramente le code che da giorni ormai si registrano all'ufficio tributi del comune di Como, ai centri di assistenza fiscale e negli studi dei professionisti del settore. Grazie a tutti.